Per lo spazio, mangia e bevi, Moro Pub, Cava dei Tirreni, tutto da vivere! E finalmente cari amici di Night in the Television, le nostre telecamere approvano qui a Cava dei Tirreni al Moro con il nostro amicone Gaetano Lambiase. Sì, sono tornato, sono un po' ai Carabie, tu sei tornato e sono andato, però sei qua e stai facendo cose belle e cose buone, no? Sì, sì, ho fatto un po' di cose. Possiamo in un'altra saletta, questa è nuova per Night in the Television, è una saletta che poi diventerà sala da te, quindi spazio non fumatori, è in settimana e il sabato invece anche per fumatori, carino con la musica, così a buona. Sì, questa è una chicca, una novità, insomma. Questa è la carica dei 101, anche il quadro senza... Solo con le macchie della carica dei 101, Danilo, lui fa queste cose. Sì, 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 l'estroartistico. Torniamo però al Moro, ossia, dove sei partito, dove insomma... Con i nostri programmi belli... Abbiamo fatto in questo porto un buon percorso perché c'è la rummeria, spazio per fumatori con i sigari rum, i narghilè e poi tra un po' introdurremo delle pipe carine con il tabacco aromatizzato che sarà la novità poi di quest'anno. Poi abbiamo aperto da dieci giorni la tavernia di Tapas che vi invito a venire, un locale tipico spagnolo con queste tapas, ovviamente anche prodotti italiani. E' buonissimo. Carino, variano anche i vini spagnoli, formaggio, molto 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 bello, piccolino quindi dovete prenotare. E poi c'è il Moro dove proponiamo musica dal vivo, sempre tanta gastronomia e la classica linea del pub che è quello che poi ha... Che era lo vecchio Moro, insomma. E' sempre così, quindi diciamo noi abbiamo inserito dei piatti, soprattutto i piatti etnici e poi tanta tanta musica. Come si suol dire hai fatto un quadrato. Un quadrato. E poi qua c'è questa saletta che... E alla tua testa invece c'è la piccola ma tanto carina Giada che voleva chiederti un pochino per quanto riguarda il programma. Magari parliamo un po' della programmazione qui al Moro. Io sono molto seria, molto professionale, sono timida, Gaetano. Vabbè. No, è bella e bravissima. Tanto bella e tanto brava. Brava anche, sì. Grazie. Che adullatore, che adullatore. Non era ancora nata forse. Torniamo a noi e parliamo un po' della programmazione. Stasera dopo il concerto bellissimo, in particolare perché abbiamo un genere in un musica elettronica con Ernesto Vitolo, organista e pianista di Pino Daniele, storico, con una cantante e con Carlo Gravina. Poi sabato prossimo invece, sempre per concerti coinvolgenti, perché sabato ricordo sono o delle cover o dei concerti ma sempre molto molto coinvolgenti. Abbiamo il tributo ai Dyer Streets con i My Dyer Streets. Poi la domenica, quindi domenica 14, abbiamo un tributo con Charlie Inn. Sono dei ragazzi, una cover band di Di Andrè, fanno un tributo a Fabrizio Di Andrè. Ricordo che la domenica i concerti sono gratuiti, quindi non si paga supplemento. Poi iniziamo la settimana, il lunedì gastronomia, musica in filodiffusione, martedì riposiamo. Il mercoledì stiamo proponendo... Ah, riposate anche voi? Eh sì, sì. Ma che tu riposi? Io non sono un carattino. Perché capito, ogni tanto ci dobbiamo ricaricare. Il mercoledì ci saranno queste strade nuove che sono le James Station, non solo jazz. Si uniscono un po' tutti i musicisti con Carlo Gravina. Questo mercoledì c'era Giuliano Oliveira Mazzariello e alla batteria Pietro Vitale, con tanti tanti musicisti. Anche questo è un concerto gratuito. Giovedì invece proponiamo musica blues con Rocco Vertuccio, Gino Ariano, poi viene un pittore da Salerno e invitano loro dei musicisti. Anche questo è un concerto gratuito. Se qualcuno suona blues può anche partecipare. Cioè è un po' un concerto James Station però dedicato al blues. Venerdì invece per i jazz abbiamo un bellissimo concerto con il nipote di Renzo Arbore, un po' il leader di Radio Capital che è Gegee Telesforo, con una band nuova, un progetto nuovo che ha presentato da poco anche un cd. E ci sarà la batteria come regalo che ha fatto lui al Moro, Roberto Gatto, che è uno dei migliori batteristi al Moro. Un concerto di Sola, no? Però questo si paga, però non dando. Un bel concerto davvero con Gegee Telesforo. Le promozioni potete visitare il sito, ce ne sono tantissime da Rimborso Parcheggio. Sono preparatissima, tu lo sai, giusto? Guardiamolo, www.pabelmoro.it Vi conviene sempre prenotare, vi do il numero che è 333 49 49 026 oppure 089 44 56 352. Adesso con la tavernia abbiamo fatto un bellissimo compleanno, erano una trentina di persone, abbiamo fatto tutto in stile spagnolo, carino. Diciamo che cerchiamo di proporre anche delle formule nuove. Giada voleva sapere perché deve festeggiare al Dio Annubilato, capito? Lo sapessi potessi? Scusa oggi. Allora vieni qua, c'è lo strip di sce. Vengo qua allora, ok. C'è lo strip di sce. Non lo so la qua. No, no, teniamo a lui. E il camera, vieni a cercare. Ah, capito, ok. Night and day strip man. Night and day strip man. Allora, ricordando che il pub e il moro e tutto il suo quadrato si trova qui a Cava Terreni, presso Davenna Scacciaventi, insomma, zona centrale storica di Cava, io volevo farci la classica domandina della serata. Sei pronto? Dai. Allora, l'amore non è... L'hai inventata Simone che è in macchina. Salutevamo Simone che è in macchina. Ciao Simone in macchina. Allora, l'amore non è bello se... Non è litigare. Prima di trascendere noi di Night and Day Television vi auguriamo una bellissima serata e vi aspettiamo qui al moro, ok? Ciao Gertano, ciao Giada, ciao Francesco, ciao Night and Day.